E carissimi amici ed amiche, veniamo a questo video credo molto importante perché ci consentirà di fare dei ulteriori passi avanti nella nostra riflessione ormai che dura 18 mesi sul caso di Liliana Resinovic. Questo video noi lo possiamo titolare l'allarme di quel 5 di gennaio 2022 che fa scattare in Sebastiano da parte di un ragazzo di 15 anni di Palermo. Vi spiego meglio nel corso del video. Però questo video serve a far capire come ci sia insomma questa componente particolare nella vita di Liliana, Sebastiano, Rosserpin e che una volta per tutte ci deve consentire di mettere da parte queste sorielle da soppopera che non hanno consentito di andare alla verità che solo oggi si tenta faticosamente di raggiungere. Ci sono le voci, è inutile che ve lo dica, insomma, di avvisi di garanzia. Sono voci che parlano sia per Sebastiano che per Claudio Serpin, che sono voci che si rincosono su web. Per il momento non c'è alcun riscontro ma si ha la sensazione che adesso gli inquirenti abbiano un po' perso la pazienza e non vogliono più essere presi in giro da questi personaggi che sanno tante cose e giocano, giocano a si salvi chi può. Ma è il caso oggi, dicevo, di fare un ulteriore passo avanti per dimostrare cosa? come la restituzione del corpo di Liliana del 5 di gennaio non sia un fatto casuale ma si configuri come la fine di un percorso per mettere a tacere una storia che è probabilmente di interessi e di soldi. Liliana, come saprete tutti, sparisce quel 14 dicembre 2021 e viene ritrovata il 5 gennaio successivo e la cosa strana sembra che tutti sentissero o sapessero che quel 5 di gennaio sarebbe stato un giorno importante. Tutti al mattino del 5 di gennaio erano in questura sia Claudio Serpin sia Sebastiano Vicentino, avete capito bene, quel 5 mattina erano presenti in questura sia Claudio Serpin che Sebastiano Vicentino per motivi diversi che vi andrò ad illustrare. Dagli atti di indagine, perché qui parliamo di atti di indagine, emergono dei dati inquietanti. Dello Serpin già sappiamo perché era lì quel 5 di gennaio un po' diciamo mandato da Salvo come rappresentante. Ricorderete che il 3 di gennaio 2022 si erano trovati Serpin, Salvo, Gabriele, tutti e tre al bar posto delle fragole, lì vicino al boschetto e guarda casa avevano tanto tempo parlato di Liliana e del suo corpo. Tanto è vero che il giorno 4, il giorno dopo, Salvo si premura di chiamare il direttore di Trieste Prima per dire ma sapete che c'è questa zona lì, ex giardini, dei giardini dell'ex OPP che non è stata perlustrata che forse il corpo potrebbe stare lì, confidando che il direttore di Trieste Prima andasse. Il direttore in effetti disse che andava, poi si fece un po' tardi, non andò più, andò, insomma, passò nei pressi, non entrò, era quasi sera e allora ecco che Salvo ritene necessario unitamente a Serpin che andasse quella mattina del 5 lo Serpin direttamente in questura. E il giorno 5 Serpin costretto ad andare in questura a dire guardate noi abbiamo pensato che nei giardini dell'ex OPP andate a vedere che ci potrebbe essere il corpo di Liliana. Alle ore 10 in prefettura ci fu un vertice e grazie pure crede a questo input andarono lì e nel primo pomeriggio intorno alle 15 trovarono il corpo di Liliana in sacchi di spazzatura. Ma quel giorno 5 di gennaio, come vi ho detto prima, vi era in questura anche Sebastiano Vicentin. Anche lui piomba lì di buon mattino, per che cosa? Piomba lì per un fatto molto, molto strano che, alla luce poi del ritrovamento che avvesrà di Liliana, assume le connotazioni di un fatto incredibile. Perché se voi, ad esempio, cari amiche, vi svegliate al mattino e vi trovate sul cellulare uno squillo, una chiamata notturna, diciamola così, e cercate di richiamare ma non avete risposta, voi che cosa fate? Dice, vabbè, chissà. Chi sarà? Oppure è andato in polizia? Non credo che è andato in polizia. Lui andò in polizia. In polizia a denunciare quello squillo telefonico. Ma non è tutto. Perché sai quanti squilli e telefonate da numeri sconosciuti che Sebastiano aveva avuto in quei giorni e a cui non ha nemmeno risposto, non è andato certo in polizia. Allora perché? Perché quella mattina del 5 di gennaio, all'alba quasi, si accorge di quello squillo e va in polizia. Strano. Ma la stranezza non è tanto questa, non è tanto questa, ma è ancora maggiore perché all'alba di quel giorno 5 di gennaio, quando lui si sveglia, non so, insomma le sei, le sei e mezza, non lo so, trova il numero, il numero che lo ha squillato, a sua volta cerca di chiamare ma non diceva risposta. E la prima cosa, sapete cosa fa? Saranno state le sette del mattino? Chiama all'armato chi? Il suo amico, il suo caro amico, il suo amicone Arturo di Sulio, nel che si incarna sempre, Arturo di Sulio. Come mai lo chiama? Che cosa si saranno detti? Perché chiamare proprio a lui? Ma poi vedremo perché saranno molto amici, perché lui lo chiama in tanti momenti importanti, perché di Sulio aveva anche grande esperienza in affari, anche se aveva avuto in verità qualche disavventura giudiziaria. Allora, ritornando a quella mattina cosa succede? Si evince questo sempre dai dati, dagli atti di indagine, non ci si inventa niente, dagli atti di indagine che dopo aver chiamato di Sulio, siamo alla mattina del giorno 5 e gli dice guardi che poi questo numero non ha disposto, cioè sente questa necessità di comunicare, non si sa perché all'amicone di Sulio questa circostanza. allora succede che lo stesso di Sulio con l'account Whatsapp, intestato però alla moglie Ramona, che cosa fa? Si prende la briga di contattare questo numero dello squillo diciamo, lo contatta lui, saranno state al massimo le 8 del mattino e dopo un po' diciamo questo contatto finalmente risponde. risponde, tramite Whatsapp stiamo parlando, chi è che risponde? risponde un ragazzo di 15 anni, un ragazzo di 15 anni di Palermo che si chiama Asaro Giuseppe, sa gli atti di indagine, che non c'entra nulla ovviamente con la vita o le cose di Trieste e che a un certo punto spiega, dice no guardate io, vi dovete scusare ma lo squillo è mio che ho fatto su questo numero perché ieri notte vedevo una puntata delle Iene nella quale si parlava dei cosiddetti numeri top questi numeri particolari formati da massimo due cifre, tre cifre, anche due ripetute, quindi sono dei numeri particolari, anche molto costosi perché se li contentano delle ditte proprio a livello pubblicitario e che guarda caso, guarda che combinazione li aveva, li avevano ad esempio Sebastiano e li aveva anche Liliana perché non si sa, ma comunque avevano entrambi questi numeri top questi numeri che diciamo potevano, avrebbero potuto anche venderli, ecco perché poi col tempo si sono rivelati preziosissimi quindi evidentemente essi a suo tempo ne avevano fatto specifica richiesta e quindi questo ragazzo, questo ragazzo di 15 anni dice allora io non credevo che esistessero questi numeri top ne ho fatto uno a casa ripetendo le stesse cifre ed era evidentemente il numero di Sebastiano e quindi dopo questa spiegazione il risulio o la moglie insomma perché parliamo di contatto whatsapp lo ha rimproverato, dice questo contatto poi mi rimproverò dicendomi di stare attento che non dovevo fare numeri a casa con un'aria di vera e proprio rimprovero immaginate che cosa grave che aveva fatto e questa censura non era stata fatta paradossalmente dallo stesso Sebastiano che aveva avuto questo squillo ma il rimbrotto, la polemica, la reprimenda era stata fatta dal risulio a questo ragazzo mai sentito una cosa del genere e credo sia strana, molto strana bene ma non finisce qua, non contento di ciò, non contento di ciò Sebastiano va in questura a denunciare questo episodio dice ho avuto lo squillo, è un fatto gravissimo però attenzione quando va in questura il corpo di Liliana non è stato ancora trovato quindi sembra un'andata assurda è vero, sembra un'andata assurda in questura però poi dopo alcune ore che vi è stato trovato il corpo quindi alla luce del ritrovamento del corpo questa sua denuncia fatta poche ore prima assume tutto un altro significato perché? Perché poi si potrebbe malevolmente dico malevolmente pensare come se dice vabbè ma allora hai avuto lo squillo non hai denunciato, non hai detto niente allora fa che quella telefonata che tu hai avuto nella notte fra il 4 e il 5 gennaio forse qualcuno ti aveva contattato perché ti voleva dire qualcosa riguardante il corpo di Liliana allora ecco che la denuncia è stata fatta prima del ritrovamento del corpo allora allora Sebastiano va a fare per sicurezza questa denuncia come se anche lui sapesse come se anche lui sapesse che il corpo doveva essere ritrovato da lì al poco come se lo sapesse lui come se lo sapesse Salvo come se lo sapesse Sterpin come se lo sapessero tutti e tutti spingevano per quella data capite quindi che l'affare si si complica si complica altro che la storiella d'amore e lo Sterpin vedete quando siamo stupidi a volte a credere a queste panzane e io dico magari ci fossero questi avvisi di garanzia che dovrebbero permettere maggiore indagine più facili ora però detto ciò c'è anche da sottolineare e mi preme dire dire questo che Nostalpino comunque era completamente alternativo e indipendente dal mondo di Sebastiano e di Liliana e degli amici del gruppo perché non ne faceva parte lui è entrato nel nel mondo di Liliana penso sempre a livello di affari come elemento disturbante come elemento estraneo come elemento che non faceva non aveva mai fatto prima parte di questo di questo cerchio di questo gruppo e in qualche modo l'aveva convinta si era inserito l'aveva convinta di condividere con lui degli interessi evidentemente e evidentemente di più ancora si era messa nei guai ora quindi io parlo di Serpino come elemento a parte perché da una parte si nota non si può fare a meno di un particolare legame tra Sebastiano Salvo Gabriella il risulio con con la moglie eh poi Adriana con il compagno Enzo De Caro ecco e fra di loro fra questo gruppo fra di loro tanti contatti ci sono stati ma contatti a partire già da quel 14 dicembre della scomparsa soprattutto fra Sebastiano e il risulio vedete il rapporto fra Sebastiano e il risulio è veramente incredibile da da attenzionare perché già quel pomeriggio del 14 dicembre diverse telefonate come dati di indagine come dati di indagine ci sono state fra Sebastiano e il risulio risulio e Sebastiano e anche con il risulio e Salvo diversi contatti poi ci sono state ad esempio si parla perlomeno questo l'ho letto che il 26 dicembre Sebastiano avrebbe portato le 5 topoline di Liliana al risulio e dice per la figlia le appostate che Sebastiano non era ancora stata trovata quindi come si fanno a regalare le cose come uno già sa che non torna più oppure era un pretesto per qualcosa poi dice le appostate per le figlie ma io non lo so le figlie ma questo risulio credo che abbia una certa età ma forse avrà figlie sicuramente maggiorenni sicuro quindi sono fatte delle topoline mi sembra più una cosa di bambini ma comunque poi diciamo che una serie di telefonate anche quella notte del 30 di dicembre il fatto della corda per soccosere il figlio e anche in queste circostanze ci stanno telefonate fra Sebastiano e Risulio Risulio con Gabriella con Salvo e la Gabriella che dice non ricordo se ho telefonato io a Disulio o a Sturo a Disulio o a Telefonato a me insomma chissà perché c'è questa corrisponsione di amorosi sensi fra di loro e poi questa più clamorosa della mattina molto presto del giorno 5 in cui è bastato uno squillo di telefono da un numero sul cellulare di Sebastiano perché Sebastiano sentisse la necessità all'alba quasi di informare di ciò il Disulio e il Disulio si fa come dire promotore di un chiarimento con questo numero dice come ti sei permesso di chiamare questo numero capite capite cosa cosa intendo dire e io credo che gli inquirenti farebbero bene ad andare a fondo anche su queste circostanze quindi poi ci saranno state e poi non ho potuto vedere tutto ma ci saranno state anche tante altre telefonate che non ho avuto il tempo di vedere ma emerge quello che volevo dire un legame che mentre è molto giustificato con Salve Gabriele in ragione della vicinanza non è comprensibile per chi abita così lontano e questo è il mondo il mondo diciamo di Sebastiano e di Liliana poi c'è un altro mondo vedete c'è un altro mondo l'altro mondo è il mondo di Serpin che è un mondo tutto suo e che io credo verso l'inizio del della crisi Covid quindi parliamo orientativamente inizio 2020 che Serpin si inserisce diciamo sfruttando un'antica amicizia nel mondo di Liliana con i suoi interessi che ovviamente non possiamo sapere e poi sappiamo come è andata a finire questi interessi erano comunque a mio avviso mal digeriti da Sebastiano che vedeva come Liliana poteva mettersi nei guai però Liliana sapete non era quella che dove la metti la sta Liliana faceva di testa sua e a volte quindi chissà quante cose ha fatto di testa sua senza dirgli niente peraltro vedete noi ci ricordiamo che erano periodi bui erano periodi Covid erano periodi di crisi ma crisi forte e quindi pensavo forse Liliana di poter adottare le entrate diversamente quando non era più possibile farlo come magari lo si faceva fino ad allora con commerci di altro tipo e quindi male fa secondo me affidarsi di di Serpina succede la tragedia una sorta di rapimento uccisione e a quel punto lo Serpina alza a mio avviso il muro di gomma il muro della storia d'amore si inventa di sana pianta questa storia d'amore condita da da tante di quelle cavolate tante di quelle contraddizioni fino all'ultima la cantinola la soffitta allora vedete gli inquirenti secondo me si sono proprio scocciati e quindi vogliono andare fino in fondo adesso credo che vogliono andare fino in fondo ed ecco perché c'è più sempre insistente queste voci di avvisi di garanzia io credo di poter cogliere come negli ultimi tempi forse negli ultimi mesi negli ultimi settimane insomma c'era una certa tensione fra Sebastiano e Liliana per questa scelta non condivisa da parte di Sebastiano che Liliana facesse di testa sua ecco e forse Sebastiano aveva sperato che quel pomeriggio lei si fosse allontanata a causa di questi diverbi di questi litigi perché sono anche convinto che probabilmente quella mattina del 14 non si fossero lasciati così bene con i topolini e le cose credo proprio di no ricordo una intervista di Sebastiano in cui lui commosso dice queste parole significative pensavo che fosse andata via magari per uno o due giorni e poteva quindi ritornare dicendomi Seba perdonami non ti ho raccontato tutto si era cacciata nei guai nei guai altro che amore altro che amore vedete per uno Serpini che quando lo vedi stenti a credere che possa essere possibile con chiunque una 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 storia visti i suoi atteggiamenti i suoi pensieri va bene dai un'ultima osservazione che voglio fare è che vi è una chiarezza lampante di qualcosa di anomalo fra le entrate e le uscite di denaro e guardando sempre gli atti del fascicolo che qua noi parliamo sempre guardando gli atti delle spese delle spese delle rendicontazioni diciamo che si nota un conto di Liliana con spese minime regolari su questo conto bancario tranne un po' di più nei periodi natalizi degli anni precedenti per cui tutto il resto entrate e uscite tutto in nero tutto in nero i soldi che si davano agli amici quei 20.000 euro che voleva dare sebastiano dicono appena e laura insomma questi soldi queste mazzette da 10 da 20.000 euro risparmi di cosa ricordiamoci anche di quei famosi codici che nel novembre siamo novembre il mese prima novembre 2021 quei famosi codici che Liliana probabilmente voleva far custodire dal fratello se mi succede qualcosa sempre nel novembre di quel 2021 abbiamo che ce lo dice lo stesso Sergio agli atti che Liliana gli dà 1.600 euro e dato che Liliana provvedeva a tutto quotidianamente allora quando gli dà ancora altri 1.600 euro allora Sergio dice no vabbè ma sai come mai no no non ti preoccupate tanto io ne ho quindi figuriamo soldi così appale insomma e siamo poi nel dicembre 2021 dopo la scomparsa in cui mi sembra Gabriele Sebastiano insomma aprendo i cassetti trovano altri 2.400 euro in un cassetto lì ma gli amici tanti riferiscono e poi vediamo insomma di vedere soldi per casa quella queste così giusto per ma quello che come dire quello che si sa è molto meno di quello che avveniva perché se noi pensiamo a tutte le vacanze le cose che ci siamo detti i fitti le cose moto auto bici le macchine fotografiche e senza movimenti bancari come è possibile che non si vada in questa direzione come è possibile mi chiedo non è plausibile pensare a tutti quei soldi all'insaputa di Sebastiano no lo sapeva Sebastiano è normale che lo sapesse però poi questo inserimento che vi ho detto di Serpin credo a inizio 2020 ha scobancinato un po' tutto perché Liliana si è fidata e questo ha un po' sotto gli equilibri con Sebastiano che lui sapeva che Liliana non doveva andare oltre un certo limite per cui quando Serpin è rivolto a Claudio dice cosa sei venuto a fare a casa nostra hai visto cosa hai combinato perché aveva combinato di aver alterato il loro equilibrio fatto dei loro affari non lo so di compravendite cose del genere che io non posso sapere con precisione fatte anche leciti per carità fatte di competenze di abilità comprare poco vendere molto che non portava certamente ad alti rischi ecco così poi finisce in una maniera più banale del mondo finisce che a un certo punto si va nei guai e qualche organizzazione delinquenziale ti prende ti restituisce nei sacchi della spazzatura probabilmente dopo aver anche ottenuto qualcosa in cambio e noi siamo qui a parlare dopo 18 mesi della storiella d'amore ancora e scommettiamo una cosa vedete tra poco ci sarà quarto grado scommettiamo scommettiamoci un bel caffè ma che parleranno ancora una volta come se nulla fosse come i cavalli con i paraocchi parleranno ancora delle stesse menate delle stesse cose ancora ospiti Sebastiano in studio con Covalero e parleranno dell'amante dell'amico speciale della soppopera estiva intitolata pensionati in amore a Trieste volete scommettere che parleranno di queste amenità di queste sconcezze ancora volete vedere che senza alcuna decenza continueranno ancora a non tener conto di tutto quello che noi andiamo a dire e andiamo a dimostrare perché perché la verità alla fine queste trasmissioni non la vogliono non la cercano perché la verità è quella degli ascolti perché la gente vuole sa la cosa la manda queste queste cretinate qua però gli inquirenti credo che adesso siano di un altro avviso ecco a proposito di avviso speriamo che arrivino questi avvisi di garanzia che sarebbero un passaggio importante dico importante perché il GIP dai notti ha cambiato il capo di imputazione in omicidio volontario occultamento di cadavere quindi quindi questi avvisi di garanzia avrebbero certamente molta molta importanza grazie vi ringrazio e ci aggiorniamo e grazie sono stato un po' lungo grazie della vostra pazienza lo sapete quanto è il bene che vi voglio per la stima che avete in me e per l'affetto che mi fate sentire ogni giorno un abbraccio a tutti quanti voi grazie